Ordinanza antiprostituzione firmata dalla sindaca Cecilia Francese. L'atto, valido dal 15 giugno al 15 ottobre, è stato emesso per esigenze di sicurezza finalizzate alla prevenzione di fenomeni anche di rilevanza penale sulla strada provinciale 175 Litoranea. È fatto di vieto a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento consistenti nell'assunzione di atteggiamenti, di richiamo, di invito, di saluto allusivo e nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo. I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro.